Ignazio Angius, Motoclub Iglesias. Ignazio, come andate oggi? Ancora non so bene i risultati, comunque credo bene. Hai trovato la gara divertente e tosta? Diciamo che in alcuni punti abbastanza migliativi, c'era una discesa molto ripida. Nella linea? No, proprio trasferimento ed era abbastanza lunga e pesante da fare, quattro volte insomma era abbastanza lunga. Hai trovato molte difficoltà nel percorso? No, per il resto no, a parte questa discesa che era veramente lunga, per il resto no. Il fetucciato come l'hai trovato? Il fetucciato è bello, veramente bello. Ricordiamo che il terreno era molto sabbioso. Il terreno era sabbioso, sì. Già dal primo giro comunque sono formate delle belle battute. È abbastanza faticoso anche? Sì, sì, vabbè, a me la sabbia comunque piace. Comunque era tracciato bene, curve larghe, per cui era proprio bello, un bellissimo fetucciato. La linea è un po' meno comunque. Meno perché? Molto monotraiettoria, monoruota, praticamente se trovavi qualcuno fermo, non aveva più possibilità di surpassarlo. Beh, vabbè, posti, c'era qualche gradino di pietre, ma nulla di che. Poi il problema era dopo, quando si allargava, che diventava una sterrata abbastanza veloce, un po' più pericoloso, però tutto sommato le gare sono così. Hai qualcuno da ringraziare in particolare? No, vabbè, il sponsor nuotoclub Iglesia, se tutti gli amici mi hanno fatto l'assistenza. Grazie. Grazie.